Brava. Allora, io non è che sono una delle prime armi, te lo dico subito, però siccome mi sono presentato qua all'improvviso capisco pure che non è che mi può dare un'azienda così da gestire, no? Ecco, siamo consapevoli, siamo consapevoli. Sì che, ti stavo a dire, a questo punto io sono pronto anche a scendere i pretesi, cioè nel senso, a me pure un posto d'arto dirigente mi andrebbe bene. Molto bene. Che l'avrei? Ah no, la laurea proprio no, no, su questo, no, 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 io non ho la laurea perché io studio da me, io sono autodidatta, capito? Poi Francis Gabriel, quello è imparato a suonare e io invece a fa' affari. Ah, ma capita, va bene. Ha delle pretese salariali? No, 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 per me va bene così, insomma, diciamo, togli inizio, 10-15 mila euro al mese, insomma un po' come tutti, per fare una vita decente. 10-15 mila? L'ho segnato, eh? Eh, bravo, bravo, anche perché papà mu lo dice sempre, abbiamo cominciato al basso, importante. Eh, certo, capisco, sì, questo le fa' onore. Grazie, ma lo sa' pure a lei. Grazie. Sì. Che? Lo so, vuole dire qualcos'altro? Ah no, 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 io credo che abbiamo finito, quindi io vorrei pure andare. Ah no, una cosa importante, me scusi, mi stavo dimenticando, su questo io proprio sono molto esigente, ve lo dico magari è in particolare, però io sono fatto questo. La macchina aziendale, almeno un V8, dai capisci, non posso andare in giro con una 500, cioè, sono anche i motori che te lasciano per strada. Certo. E poi che altro, che altro? Ah sì, io avrei bisogno di essere pagato in nero. Ma non capito, in nero? Eh sì, perché, sapete, c'è un po' un po' che mi stai benificato, c'è bisogno di essere pagato in nero, perché c'ho qualche problemino che ha la polizia ultimamente. Sì, ma niente di serio, non è che mica è una strage di cadaveri per strada, però meglio ne capisci. Certo, vabbè. Ok. Ok. Allora, riassumendo. Dica. Lei non ha nessuna esperienza? Io? No, nessuna. Perfetto. Nessuna laurea? Ma quando mai? Ma figlio. E cerca un posto da dirigente? Parto, però. alto dirigente. Alto dirigente. Alto dirigente. Cioè, e vorrebbe tra i 10 e i 15 mila euro al mese in nero? Eh, sì. Sì, esatto. Bravo. Mi sembra che ci siamo detenuti. Beh. Beh, che sta aspettando? Preva in via o no? Ah, beh, certo. Allora, sì, controllo. Sì. Allora. guardi, abbiamo... Ah, ecco. Sì. Sì? Niente. Proprio un bel niente. Però è un po' togliato. No, forse non è. Credo che si debba togliere proprio uno zero dallo stipendio. Ah. Eh. Sì, e allora forse in quel caso ho qualcosa. Davvero? Allora, però... Aspetti un attimo. Ma in questo caso l'auto è compresa. Cioè, siamo d'accordo. Ma che scherza? Ma certamente, non resterà l'auto è accettata. Allora. Eh. Eh 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 eh. Eh 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 Grazie.